Grazie a tutti. Grazie a tutti. A questo momento sono il sindaco di tutti i graianesi. Sono emozionato e nel ringraziare tutti la promessa è quella di agire sempre con realistà, con serietà, con benedizione, con impegno e l'interesse esclusivo di tutti i graianesi. Mi sia consentito di rivolgere oltre che il ringraziamento al Presidente dell'Ufficio Centrale qualcosa invece di importante per quanto riguarda il nostro commissario. Stimato dottor Donato Cavani desidero esprimere il più sentito ringraziamento per aver guidato e governato la nostra comunità, non soltanto con impegno importante ma anche con elevata professionalità, competenza e soprattutto con sentimenti sinceri che la popolazione ha perspita da subito. Il suo contributo e la sua attiva collaborazione sono state preziosi e determinanti per il raggiungimento di importanti obiettivi e costituiranno sicuramente l'inizio del nuovo cammino di responsabilità ed impegno da intraprese, puntamente al gruppo consigliare Neoretto. Desidero a formularne il più vivo compiacimento per tutte le iniziative intraprese e per quelle portate a conclusione. Un dicero obiettivo di una sempre maggiore affermazione professionale, con l'autodizio che il Comune del Gagnano, che vi auguro porterà un cuore, possa essere volito di ulteriori ed amori prestigiosi incarichi e riconoscimenti. Grazie. 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 Grazie a me l'amicizia più sentita e più profonda nei confronti di questo territorio, nei confronti della sua amministrazione e grazie per le parole bellissime che il Gesù sarebbe mi conosciuto. In bocca al lupo. Grazie. 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 Grazie.